Dare un senso a quanto sta accadendo nel mondo in un contesto nel quale i confini politici tra gli stati non sono sufficienti a delineare interessi e aree di influenza. Con questo obiettivo nasce la partnership tra la Fondazione Trevigiana e i Magomundi, CMB ed Harper e la Scuola di Fondazione Geopolitica di Limes. Per poter dare un'opportunità a tre giovani di partecipare alla scuola di Limes attraverso tre borse di studio. Questo è stato il primo passo che abbiamo fatto. Oltre alla borsa di studio, mercoledì 15 maggio, alla chiesa di Sant'Unisto, ci sarà un incontro, l'Italia nel mondo che cambia, con Lucio Caracciolo, fondatore e direttore di Limes. Questo è un avvio di collaborazione che intanto parte con la consolizzazione di tre borse di studio per tre giovani da noi selezionati, particolarmente meritevoli. Quindi è qualcosa di molto concreto. Poi con l'evento pubblico del 15 maggio alle 18 lì a Treviso e poi degli ulteriori passi, di cui vi daremo informazioni dopo quell'evento. I contesti geopolitici internazionali diventano di grande interesse anche per le imprese del territorio. Noi siamo strettamente collegati a quello che succede nel mondo. L'abbiamo appreso sia dalle guerre che stanno succedendo o dai passati pandemici, che comunque coinvolgono le aziende o comunque il territorio, famiglie anche dello stesso territorio. Ecco che capire meglio, capire prima quello che può succedere nel mondo attraverso la formazione di questi studenti ci aiuta anche a prevenire o a indirizzare meglio le nostre strategie. La scuola di Limes è centro di formazione della nuova classe dirigente italiana e questa partnership è molto significativa per le aziende della marca che hanno una propensione molto alta all'esportazione. Capire il mondo in cui si portano i propri prodotti sia una necessità che magari una volta era affidata un po' all'intuito sicuramente all'intuito dell'imprenditore che ha fatto nascere l'azienda, l'ha fatta sviluppare, ma oggi se i cambiamenti sono talmente repentini, talmente veloci e complicati che non basta più solo l'intuito ma ci vuole sicuramente anche una preparazione. Grazie a tutti.